Jace Bond Lei cosa ne pensa delle ultime elezioni presidenziali in Russia? Il Premier Putin ha dichiarato È stata una battaglia aperta e onesta Lei in questa affermazione ha letto una dichiarazione di colpa Vuole aggiungere altro a questo argomento? Lei ha espresso grandi dubbi che il risultato del voto rifletta gli umori reali della società russa Lei sostiene che questo sia lo specchio dell'illusione democratica globale Vuole approfondire questo suo concetto? Putin piange commosso di fronte alla folla riunita sotto le mura del Cremlino Come interpreta lei questa notizia? Il Premier Putin ha dichiarato È stata una battaglia aperta e onesta Lei in queste affermazioni ha letto una dichiarazione di colpa No Jimmy fermo Giù Giù E che cazzo stiamo lavorando Fermo